Alcuni diritti dei lavoratori è entrato in vigore da ieri praticamente il diritto di disconnessione Oh, ci ha preso Sì, ma da una tiga E purè che si fermano a bucare Nessun obbligo a stare lì a vedere se il tuo responsabile ti ha mandato un'e-mail Il tuo collega ti sta avvisando del cambio di orario Oppure piuttosto che gli aggiornamenti su appuntamenti e quant'altro Quindi tu hai il diritto di non stare sempre lì a guardare questi telefonini Con queste e-mail, con questi campi media attesi Dove ti arriva prima Tu puoi avere un'ambulanza Si chiama l'esito di disconnessione Guarda qua Guarda lì Guarda 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 Piccolini Guarda quello là Come si chiama fa quella di Heidi? Neve Guarda che quelle là non mi ricordo più Però adesso venisse io a arrivare al posturo Gattano a ciavallo Ma anche da dietro a Villa Ah vedi sono dietro Che belle Ma come mai non mi manda un'e-mail Guarda quelli più Vabbè Mi escludono Il cane Il cane ti vedi Due cani Due cani Due cani Perché fai un lavoro magari molto stressante E di conseguenza te lo porti anche a casa E poi te lo porti sempre a casa Certo Però non è che due È È È È È